non vi può essere stato di maggiore eccellenza e dignità non solo non vi fu mai stato al mondo più degno di questo ma quel che più non vi può nemmeno essere come dicevo al principio poiché tanto è più perfetta una cosa quanto è più vicina all'ultimo fine e nessuna cosa può essere più vicina all'ultimo fine di quella che nell'ultimo fine introduce immediatamente ma questo è appunto ciò che fa la nuova legge secondo che dice l'apostolo avendo pertanto fratelli fiducia nell'introito dei santi nel sangue di cristo accostiamoci per quella strada su cui egli ci ha iniziati onde che nella presente vita non vi può essere stato di maggiore eccellenza e dignità grazie a tutti